La circolazione che è dalla via da Tonarella, dalla via Fata Morgana, porta via del mare, abbiamo pensato di un accorgimento che dia la possibilità alle auto che salgono dalla via del mare di poter girare con la svolta destra continua sulla via Bessarione. Per quanto riguarda via Mario Fani, l'abbiamo riportata con il divieto di accesso a scendere verso via Fata Morgana, proprio per dare più possibilità a chi si trova nella via Bessarione di andare avanti senza trovare l'ingorgo e anche stiamo cercando, abbiamo modificato un attimino anche i semafoli per dare un po' più di verde a chi si trova, perché pensiamo che il traffico chiaramente più congestionato si trova proprio sulla via Bessarione, allunghiamo un attimo qualche secondo in più il verde sulla via Bessarione. Queste sono le modifiche che abbiamo concordato con il nostro sindaco, con l'amministrazione proprio per cercare in via sperimentale, adesso vedremo se questo esperimento che stiamo facendo dà i risultati che tutti quanti ci aspettiamo.